ben trovati amici Roma ora qui da via di Montserrato vengo da piazza farnese oggi vi posso far vedere un posto che è veramente una chicca per gli amanti del cinema un posto che è in Italia quasi mezzo secolo eccolo qua ragazzi Hollywood guardate che bello Hollywood tutto sul cinema prima di entrare obbligo di mascherina e vedete già da fuori iniziano delle splendide e storiche locandine buongiorno allora questo posto incredibile esiste da più di 40 anni come potete vedere dvd foto di scena locandine veramente il posto perfetto per chi ama il vero cinema qui c'è Giorgia gli facciamo qualche domanda lei è la figlia di Marco di Marco che aveva aperto Hollywood più di 40 anni fa e ragazzi io vengo qui da quando ero bambino praticamente ho visto proprio il passaggio da locandine a fotografia e basta poi le prime vhs poi dvd e adesso che c'è il trionfo dello streaming Hollywood ancora resiste grande Hollywood e non si è mai fermato Giorgia come vanno le cose come come va devo dire che esiste e resiste insomma noi abbiamo dei clienti affezionati ma non solo anche ragazzi giovani amanti del cinema che decidono di essere collezionisti che non solo comprano dvd ma comprano locandine poster manifesti il cinema è qualcosa che si rigenera se vogliamo ogni settimana con ogni nuova uscita al cinema quindi certo e qui poi spesso ci trovano delle cose che poi non trovi invece così facilmente su internet no? Beh sì insomma cerchiamo di da sempre Marco mio padre ha avuto una selezione di cinema d'autore ha fatto questa scelta da sempre quando sono stati inseriti VHS a noleggio i primi 80 film che ha messo erano Tarkovsky, Bergman, Goddard insomma quindi all'epoca già fece una scelta importante e da lì abbiamo sempre ha continuato sempre con questo filone insomma la specificità è quella insomma di Hollywood la forza la forza la tradizione e quindi qua ci sono le locandine di film veramente importanti e sono proprio quelle originali che non siamo più abituati a vedere così no in città e purtroppo ci sarebbe anche a dire che il cinema è un po' cambiato da un punto di vista dei contenuti ma non vogliamo fare fare i polemici o i nostalgici insomma io e noi vi invitiamo a passare di qua se volete fare una semplicemente una visita alle meraviglie che ha questo questo negozietto e anche se volete andarvi a prendere qualcosa che pensate che sia introvabile che non riuscite a trovare nemmeno su internet perché qui lo troverete e ci sarà la gentilissima Giorgia che vi aiuterà quindi ripeto un posto che veramente siamo felici di venire a trovare e raccontare anche per Roma ora Roma mentre accade Grazie Grazie Grazie